Ciao a tutti ragazzi, io sono Erco per lo staff del team FIFA Italia, dopo il video fatto per Italia-Belgio siamo qui con un'altra partita di cartella dagli europei, ci giocheremo il derby britannico, cioè Inghilterra-Gallest, cioè Kane contro Bale. Sono sempre in compagnia di Chris? Ancora, buonasera, cioè più che finito contro Bale direi non stato contro un giocatore solo, però vabbè dai. Vabbè, possiamo andare con la partita, possiamo cominciare con la partita, anche il Wembley Stadium si è trasferito in Francia, siamo qui per il derby britannico, Wembley, dal Wembley Stadium, è fortissimo l'Inghilterra con Sterling per Vardy, ricordiamo che il suo è il suo esordio all'Europeo, Kyle Walker, squadra di falegnami e pescatori, cioè, intanto i falegnami e pescatori, per ora sono primi nel girone, con tre punti. eh, vabbè, vabbè, c'è un certo Bale che se la porta avanti da solo su squadra, o quasi, quindi. Kline, Starridge, ci prova Starridge! Così. Runei, Starridge, che cazzo fai Starridge? Attenzione! Che bel portiere, che bel portiere, nella mia squadra di l'Enghilterra. Per Starridge! Ha tolto la testa a un suo compagno! Se entriamo in questa potete mandarlo al goal of the week della EA, tranquillamente. Ramsey per Bale, che si può scatenare, eh! Kyle, anzi era Smalling, non lo riesce a falciare. Bale ci prova! Cioè, Joe Hart importa, non c'è NSA! Eh, effettivamente il Rashford cosa ha la metà degli anni di Milner, tipo? Sì, Runei, poi per Rashford, che ha 87 di accelerazione, l'anno prossimo su foot se mi farà abbastanza paura. Il Robson Cano è la sua nuova posizione, prova ad andare, vede Joe Allen, Joe Allen Klein, gli scippa la palla. Ecco qui Milner, con le sue geometrie, altro che Tiago Motta, come nella scorsa partita tra di noi. Numero, Robson Cano, si apre il Galles di Alley. James Miller, Dyer, Runei, Dyer... E' stato costretto al fallo, Phil Collins. E' venuto, Phil, però... Ci sta, Collins, alla pelata, ci deve essere portato così. Ha detto per Rashford, ragazzo delle meraviglie, Marcus Rashford, James Miller, Rashford, 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 non ancora debuttato nell'europea, così come Barbie. Rashford ancora, è entrato un propositivo il ragazzo. Sappiamo bene che Rashford dà il vizietto di segnare al debutto, quindi... chissà, chissà. Eccolo qui subito, che lotta. Diciamo che non ho mai segnato al debutto Rashford. Vedo mai. Ogni, inonata. Sarcasmo. Eh, dove sarà. Se adesso a Bale contro tutta la difesa, Bale, 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 Walker. Con tutta la calma e non shalance possibile. Di Lally, vede l'inserimento di Runei e lo serve. N6 in anticipo, Runei rischia di fare due morti con una sola scivolata. Ma non commette nemmeno facile. Runei... anche lui si sente veloce in mezzo ai carpentieri. Eccolo. Eccolo. Guarda Phil Collins. E poi N6. Lomarca... 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 Robson Cannon. In fase difensiva è più forte che in attacco. Roram... 6. Klein. Facendo una partita fantastica Klein. Jamie Vardy. Come si trova lo spazio e il tempo per far partire Marcus Rashford. Vardy. Cos'è? C'è su qualcosa? Fuoligioco. Proprio lui. Attenzione. C'è il varco. Joe Allen. Vox. Che fresco. Però è Vox quindi... È fresco. Esatto. È Vox. E non è buono. E non è buono Vox. Milner. Milner. Per Dil Ali. Che è stanchissimo contro Gunter. Le citazioni musicali tra partita si perdono. Gunter. Bale. Con le ultime energie in corpo. Ramsey. Ramsey. Joe Hart. Ormai è troppo abitato da avere a che fare con i morti e la sua velocità ne risente. Partita alquanto anonima quella di Marcus Rashford. Smalling. Smalling. Decisamente il migliore in campo fino ad ora. Si potrebbe provare da lontanissimo. Runei. Sbaglia tutto Wayne. Joe Hart. Si prende un rischio su Bale. Kyle. Ramsey. Bale. Bale. E' finita qui. Finisce 0 a 0 tra Galles e Inghilterra. Il Galles si conferma prima nel girone andando a quattro punti. L'Inghilterra va a due con due pareggi ed è costretta a vincere l'ultima gara contro la Slovacchia di Mare Kamsik. Davvero una bella partita combattuta. Dall'impresa di Christopher che con il Galles è riuscito a tenere lo 0 a 0. L'Inghilterra ha sbagliato qualcosa. Soprattutto con Henry Kane. Ma comunque la partita è finita quindi può finire anche il video. Da Erco e Chris per lo staff del team e team. Vi vediamo tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Bella.